Il papà di Manuel Bortuzzo, tramite social, ha lanciato l'ultimo avvertimento contro gli hater. «Leoni e leonesse da tastiera, non permettetevi di nominare la mia famiglia», ha scritto Franco condividendo un post sul suo account di Instagram. «Lo sfogo di Bortuzzo è proseguito, sono stato in silenzio due mesi, a sopportarvi. Ora renderete conto ad altri e fatevi una ragione di vita e non entrate nella mia. Curatevi e non azzardatevi mai più a commentare con cose che istigano odio e lasciate i gruppi che lo fanno e verranno perseguiti». Il padre di Manuel ha aggiunto «Detto fatto! Dopo due mesi di silenzio e ora di finirla ricordo che tutti i profili che ho bloccato sono stati salvati e di materiale ce n'è a sufficienza per aprire un fascicolo. Continuerò a segnalare e aggiungere a denuncia. Fatevi una ragione di vita e lasciate la nostra in pace. Non vi ha detto il dottore di seguirmi né giudicare ogni nostro avvenimento. Trovate la vostra serenità e smettete di nascondervi fake che non siete altro. La mia famiglia non si tocca». Cosa ne pensate del suo sfogo?